Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, proprio in questi luoghi dove Padre Pio spesso si ritagliava un piccolo momento di preghiera, ma soprattutto anche di colloquio con i suoi figli spirituali e con i suoi confratelli. Leggiamo la testimonianza che ha inviato a questo indirizzo di posta elettronica Giuseppe. È una testimonianza che ha due firme, quella anche della moglie Angela, che si sono conosciuti in Germania, ci siamo sposati nel 78 a Cagnano Varano, quindi molto vicini a San Giovanni Rotondo, dove ci siamo recati un giorno dopo il nostro matrimonio, matrimonio celebrato nella grotta di San Michele a Cagnano, al nostro ritorno in Italia nel 94, ci siamo sentiti molto con la famiglia della zia di Angela, che erano rimaste ancora in Germania a lavorare. La zia era importante per mia moglie perché era stata molto vicino alla sorella, mia suocera, fino alla sua morte per un brutto malanno che l'aveva colpita ancora giovanissima. 1997, il 10 giugno, la figlia di questa zia, a cui avevano scoperto un soffio al cuore, stava per partorire il suo secondo figlio. Il giorno del parto la zia telefonò alla nipote per confidarle un grande pericolo per la figlia, il feto non si era ancora girato ed i medici così avevano deciso che si sarebbe dovuto utilizzare il parto cesario, ma le condizioni del cuore della mamma non erano tali per permetterlo, si rischiava di perdere la vita di uno o di entrambi. La zia era disperata, Angela, sapendo quanto era legata la zia a Padre Pio, alla fine di una lunghissima telefonata la salutò dicendole che dovevano pregare Padre Pio, affidargli la vita di sua figlia e del nascituro. Iniziarono così lunghi minuti di preghiera, anche se si trovavano a migliaia di chilometri di distanza. E qui Giuseppe, nella sua testimonianza, va a suddividere questo racconto sdoppiandolo. Una doppia testimonianza, quella di mia moglie a casa, stanca, aveva lavorato dalle 5 alle 13, tornando a casa gli erano arrivate quelle brutte notizie. Io invece, scrive Giuseppe in una scuola elementare, uno degli ultimi maestri di scuola elementare, racconta, a circa un chilometro di distanza da casa, ma ignaro di quello che accadeva. Quindi Angela a casa e lui a scuola. Ad un tratto, racconta Angela, si sentì svegliare da un intenso profumo che la stordiva. Pensava fosse entrato qualcuno in casa, andò a girare per ogni stanza, ma non trovo nulla. Un profumo molto intenso, continuava ancora, mentre arrivò la telefonata. Era la zia che era contentissima del lieto evento. All'ultimo momento, prima che iniziasse il parto cesario, il bambino si era girato ed era nato normalmente. Zia e nipote ringraziarono entrambe il Signore per l'accaduto, così come si fa spesso. Grazie a Dio, è andato tutto bene, senza pensare che fosse stata concesa una grazia. Direttamente, dopo le loro preghiere, richieste, mia moglie non sapeva nulla dei profumi di Padre Pio. Lui a scuola, lui era quell'anno, racconta il fiduciario della scuola, responsabile diretto della direttrice, e la Bidella chiese, c'è una persona alla porta che vende libri, ma non ha il permesso della direttrice, che faccio? Lo faccio entrare, lo mando via, che faccio? Purtroppo era la prassi, i librai senza un permesso del direttore non potevano portare libri nelle scuole, tanto più venderli, visto che eravamo ormai distanti dal periodo di adozione di nuovi libri, rimasi sorpreso e mi chiesi, ma che libri sta vendendo il signore? Libri su Padre Pio, mi dispose la Bidella. Io, sapendo che mia moglie era molto interessata a Padre Pio, ormai ne avevo sentito parlare abbastanza, disse alla Bidella, senti, visto che non hai il permesso per evitare proteste delle colleghe più severe, sul sorvorare e sulle disposizioni, quindi è meglio che non dici nulla agli altri, ma prendine uno per me, quanto costa? 14 mila lire, bene, ecco i soldi, prendine uno. Me lo porto, lo ho messo in borsa, non vidi in faccia il libraio, ma ora posso affermare di essere molto curioso ed avrei voluto vederlo in viso. Terminata la giornata scolastica tornai a casa, penso che ognuno che legge possa immaginare cosa avvenne a casa, mia moglie mi raccontò questo evento, avvenuto i pericoli in cui si era andato incontro, mi racconta tutta la telefonata della giornata con la zia, poi la lieta notizia, dalla disperazione poi alla felicità e io mi chiesi, poi mi chiesi, ma tu non senti nulla, non senti nessun odore? No, risposi io e mi raccontò di questo odore, di rose, viole che aveva sentito, l'avevano stordita. Infine mi ricordai di aver preso quel libro e lei fu molto felice di riceverlo e iniziò immediatamente a leggerlo e quella sera, nonostante avesse dovuto in piena notte alle 3.30 svegliarsi per presentarsi poi in tempo al lavoro, rimase sveglia per leggere tutto il libro, alla fine mi chiamò guarda, c'è scritto che padre Pio fa sentire dei profumi, quello di rose e viola è quello che indica per grazia ricevuta e il Giuseppe racconta, mi fermo qui proprio perché potete immaginare la grande commozione e soprattutto la meraviglia di ciò che il nostro Signore possa realizzare. E qui lo stesso Giuseppe ci racconta che da allora posso dire che lentamente ma costantemente la nostra vita è cambiata, fumo presenti in Santa Casa a Loreto dopo alcuni anni, nel 2012 anche siamo stati in altri pellegrinaggi, nel 2017 abbiamo fatto ufficialmente registrare in Curia e a San Giovanni Rotondo il gruppo di preghiera di San Pio a Recanati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!